Buongiorno a tutti, continuiamo la nostra serie di video riguardo la Bibbia e la sessualità. Oggi rispondiamo alla domanda Il sesso prematrimoniale è un peccato secondo la Bibbia, secondo la Chiesa Cattolica? Allora, secondo la Chiesa Cattolica, ma secondo anche tutte le confessioni protestanti, il sesso prima del matrimonio è un peccato. Perché? Perché appartiene soltanto al marito e a sua moglie. Il sesso nella Bibbia è un atto speciale. Perché? Perché unisce profondamente l'uomo e la donna. Unisce due individui a tal punto da, l'espressione famosa che sappiamo tutti, diventare una sola carne. Genesi, capitolo 2, versetto 24. Gesù riprenderà questa espressione famosa, una sola carne, in Matteo, capitolo 19, versetto 5. Quindi, è un rapporto speciale. Non è un qualcosa che possiamo fare con chiunque, con tantissime persone. Dovremmo farlo appunto con una persona, per diventare una sola carne. Addirittura, dice San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, un po' prima del capitolo 7, quindi alla fine del capitolo 6, che siccome è scritto che chi si unisce a una donna diventa con lei una sola cosa, quell'uomo che si unisce a una prostituta diventa una sola cosa con la prostituta. I protestanti usano un'immagine molto efficace, che è quella di due adesivi che si incollano. Noi siamo come degli adesivi. Quando ci incolliamo per la prima volta, siamo molto forti, molto resistenti. Se però ci stacchiamo, perdiamo un po' di adesività, perdiamo un po' di questa forza, di questo potere. Anzi, lasciamo anche dei nostri pezzi sugli altri. E gli altri lasciano un qualcosa di loro su di noi. Quindi, per i protestanti, non esiste il casual sex, il sesso casuale che possiamo avere con una persona senza provare affetto, sentimenti, emozioni, soltanto per piacere. Questo, secondo i protestanti, secondo la Bibbia, non esiste. È impossibile avere una relazione così intima come quella sessuale senza lasciare qualcosa all'altro e senza che l'altro lasci qualcosa a noi, di emozioni, di affetti, eccetera. Come due adesivi, una volta che attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, stacca, si arriva a un certo punto che... Scusate, mi si è scaricata la fotocamera, allora adesso ho attaccato il cellulare. Stavo dicendo attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, stacca. Alla fine perdiamo la forza adesiva, perdiamo la capacità di collegarci pienamente a qualcun altro, perdiamo la capacità anche di ricevere l'altro in pienezza e diventiamo più insensibili, più freddi, più chiusi. Non è più possibile unirsi ad un'altra persona come la prima volta. La prima volta è quella più intensa, è quella della one flesh union, l'unione di una sola carne. Ora si può essere d'accordo con questa visione della sessualità, dell'amore? Oppure si può anche non essere d'accordo, perché c'è chi sostiene che è possibilissimo avere relazioni sessuali con altre persone senza per forza avere in gioco dei sentimenti, dell'affetto, eccetera. Ecco, sono due visioni diverse, due visioni diverse. Allora, ma e quindi che cosa dice la Bibbia riguardo al sesso prematrimoniale? Anche qui, la Bibbia perché non dice nulla riguardo al sesso prematrimoniale? Allora, non dice nulla, non c'è scritto il sesso prematrimoniale è un peccato. Non troviamo queste frasi, non le troviamo. Perché non le troviamo? Perché nella situazione storica, geografica, culturale dell'epoca, in cui la Bibbia, questa serie di libri e il Nuovo Testamento sono stati scritti, non si poneva nemmeno il problema. Perché? Perché le ragazze, le bambine si sposavano a 13 anni. Quindi non c'era per loro il problema di posso avere delle relazioni sessuali con un altro uomo prima di sposarlo, oppure devo... Cioè, la bambina sposava l'uomo e dopo magari andava a viverci insieme, cioè non c'era nemmeno questo problema, non si poneva nemmeno questo problema. Quindi è una situazione completamente diversa, è un altro universo rispetto a quello in cui siamo noi, a quello in cui il partner ce lo scegliamo noi intanto, non ce lo sceglie la nostra famiglia per situazioni di convenienza, ma ce lo scegliamo noi con molta calma, proviamo a starci insieme, proviamo a viverci insieme, poi capiamo com'è il carattere, capiamo se potrebbe funzionare con lui una relazione e addirittura se potrebbe funzionare con lui la costruzione di una famiglia. Cioè, nessuno di questi calcoli era previsto nell'antichità. Nell'antichità, sì, ci si buttava nel vuoto, cioè, come si dice, si compra a scatola chiusa. E se pensate, scusate, ho detto nell'antichità, ma ovviamente non è che cento anni fa la situazione era la stessa di oggi. Noi viviamo veramente in un'epoca straordinaria, in un'epoca completamente diversa dal passato, in un'epoca speciale. È che non ce ne rendiamo mai conto. E quindi le bambine e le ragazzine si sposavano a 13 anni. L'unico peccato che potevano commettere, che nella Bibbia è condannato tantissime volte, tantissime, è quello dell'adulterio. L'adulterio, ovviamente, il tradimento del proprio partner è un peccato molto grave. Però riguardo al sesso prematrimoniale, anche qui dobbiamo rimanere a bocca asciutta, perché nella Bibbia non c'è scritto niente e perché una volta, come abbiamo visto, non si poneva nemmeno questo problema, non c'era nemmeno questa possibilità. Bene, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.